A Rimini Wellness, evento fortemente atteso dagli appassionati di fitness e di benessere, non poteva mancare Noberasco Go, iniziativa di Noberasco per promuovere uno stile di vita sano legato al mondo dello sport. Allenati, riposati, ricaricati, le parole chiave della presenza a Noberasco per la prima volta presente a questa Kermess, che si presenta con un'area relax e accoglienza dai colori vivaci, un vero e proprio spazio dedicato a chi vuole ricaricarsi con una pausa di energia e gusto grazie ai prodotti del chiosco del benessere. Concept vincente che permette a Noberasco di concentrare nel suo spazio sportivi e non, uniti dall'attenzione alla sana alimentazione e al benessere. Ma la ricarica non è solo di energia inteso come cibo per la mente, perché in questa area si può usufruire dell'energia Noberasco per ricaricare i propri cellulari e i device. Tutti, ma proprio tutti, possono entrare a far parte della squadra Avatar Noberasco Go. Come? Basta acquistare i prodotti al chiosco durante la fiera e farsi immortalare con un click. Adesso anche il vostro volto ha il proprio avatar. Giorni intensi di appuntamenti ed eventi, incontri, persone e personaggi dello sport si sono susseguiti nell'area Noberasco, da Vittorio Brumotti ad Aldo Montano, da Silvia Salis fino ad arrivare al nutrizionista ed esperto in allenamento della Juventus FC Matteo Pincella, che sabato 4 giugno ha dispensato consigli sul rapporto sport e alimentazione. Dinamismo, sport e benessere. Noberasco Go, dopo il Rimini Wellness, proseguirà con una serie di iniziative rivolte al mondo degli sportivi di tutti i livelli, in cui benessere, alimentazione sana e gioia del movimento saranno sempre protagonisti. Per rimanere aggiornati sul team Noberasco Go per le tappe e gli eventi, basta visitare Noberasco Go per le tappe. 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 No